Oggi, giovedì 31 marzo, Oscar Piattella compie 90 anni, due terzi dei quali trascorsi come uno dei più affermati artisti pesaresi sulla scena internazionale. 90 anni celebrati controcorrente, perché se al compleanno è il festeggiato a ricevere regali, nel caso di Piattella è stato l'artista a donare una delle sue opere a Pesaro, città dove è nato prima di trasferirsi a vivere e sviluppare la sua creatività nella vicina Cantiano. Piattella dona alla città il Politico per Pesaro, un personale omaggio alla Palla del Bellini dei musei civici. La donazione è avvenuta nella sala del Consiglio Comunale, dove il Politico resterà come installazione permanente. Un'opera svelata fra gli applausi di una gremita sala municipale. Il Politico è un acrilico su tavola realizzato fra il 2017 e il 2020 per la mostra Disgregazione e Unità, che ora va adornare ad un livello artistico superiore la rinnovata Sala del Consiglio. Un onore immenso che abbiamo voluto ricompensare, insomma ringraziare attraverso la collocazione di quest'opera all'interno della sala che vede l'assemblea cittadina più importante della nostra città. Speriamo e ci auguriamo con questa bellissima giornata che aprile sia il mese in cui riusciremo a rientrare nel Consiglio Comunale di Pesaro, infatti il mio impegno nell'Ufficio di Presidenza dei prossimi giorni è quella di provare a tornare in aula. L'aula ora è pronta, è accessibile, è tecnologicamente attrezzata e finalmente avremo anche un'opera importante che può darsi che ci suggerisca anche miti consigli e miti suggerimenti per poter amministrare la nostra città. Applauditissimo l'intervento in comune di Oscar Piattella, uno spassionato inno d'amore all'arte, alle sue terre da Pesaro Alcatria e ai tesori culturali di questa terra come la Pala del Bellini. È un omaggio alla Pala del Bellini, io non vorrei insistere troppo su questa cosa perché quello è una cosa che non so che bisognerebbe che Pesaro obbligasse i suoi cittadini a fare una visita almeno una volta alla settimana. Una volta alla settimana uno deve passare lì, passare lì davanti, farsi il segno della croce e tornare alla vita normale. È una cosa strabiliante. È difficile trovare un'opera di un'importanza così come è costruita questa macchina meravigliosa. Poi tutto ciò che c'è lì di intellettuale, questa prospettiva che è un retaggio del Rinascimento. Insomma è una cosa grandiosa, bisognerebbe pubblicizzarla di più questa tavola. Sembra che noi abbiamo un quadro qualsiasi. Piattella ha anche enfatizzato la svolta storica dell'elezione a Capitale della Cultura 2024 della città e si è detto pronto a fornire il suo contributo artistico. Se gli amministratori sono lungimiranti, insomma io e altri artisti sempre di Pesaro, penso artisti bravi, un pa', due, tre al massimo, potremmo combinare qualche cosa. Poi se non succede vedremo può darci che facciano delle cose altrettanto positive. Ci aspetteremo.